Ciao amici di Youtube, qui con voi è Sciale Pum, oggi ragazzi siamo in un nuovo video, eccoci qui di nuovo, buon sabato a tutti Siamo sempre qua Chef Fran, siamo sempre qua, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene Ti vedo sorridente dopo la vittoria della semifinale, dobbiamo affrontare l'Inter lunedì, vi aspettiamo in diretta per la finale di Supercop Allora, tu ricordati sempre le parole che io ti ho detto Tu l'hai detto nel video di Ngong Che noi vinciamo la Supercop Tu l'hai detto Sei ancora convinto di questo? Io sono ancora convinto, lo so che l'Inter è molto più forte di Ngong, però questo 3-4-3 mi è piaciuto tanto Non si vede un grande gioco, però la difesa viene più lì Ok, ok Allora, scegliamo, o vinciamo o il bel gioco Io voglio giocare male, abbassare i cominci E quando il Chef Fran grigica la Supercop Va bene, ha detto la sua Chef Fran, ha sganciato la bomba Tanti mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale Sono arrivato al secondo, sta 50 e 50 Eh sì, è sempre il finale È vero, è vero, commentate qui sotto se vedrete la finale Ma soprattutto commentate qui sotto se vi piace il nuovo gioiellino del Napoli Perché siamo in un nuovo video presentazione di un nuovo giocatore Stiamo facendo una rivoluzione Come hai detto tu, anche nello scorso video e come dici ora Questo Napoli si sta rivoluzionando Sta cambiando e sta nascendo il Napoli del futuro Perché abbiamo preso Maccia, Mattia, non so come... Popovic 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 Classe 2006 Attaccante serbo Sarà un nuovo giocatore del Napoli Benvengano questi giovani Che ne pensi? Io non l'ho visto, ho sentito solo parlare tramite te oppure qualche televisione che... Io non lo conosco Era molto richiesto Maccia e City Da in Monaco Milan Porto Porto E Dallo doveva essere un giocatore del Milan Milan, sì Non so perché, forse con l'entourage non hanno trovato un accordo In Napoli si è piombato sul giocatore, ha trovato l'accordo E stamattina, appunto in questo momento, ha svolto le visite mediche Probabilmente andrà in pressito quest'anno Eh, che cosa succede con questo ragazzo? Questo ragazzo è del Napoli Svolgerà le visite mediche Vi ricordo, ha 18 anni di un classe 2006 Vabbè, non ho freedom goal perché io sono 2001 18 anni, ma tu non c'erano più forte l'uomo E vabbè, stiamo parlando di altri giocatori Però questa cosa che Napoli ha voluto fortemente il giocatore E che squadre come Real Madrid Bayern, Porto Milan Manchester City di Guardiola Sì, dopo Manchester City di Guardiola Avevano addocchiato il giocatore Significa che sotto sotto questo ragazzo è un talento Questo è serbo però è emigrato in Germania No, questo ragazzo è nato in Germania Però è di nazionalità serba Questa mattina appunto sta svolgendo le visite mediche Poche ore fa Vi firmerà Eh, un bello alto Sai quanto è alto? È 1,94 Un bello staccano, un bello alto alto Però non è un attaccante È questo Può giocare anche da attaccante Ma è un trequartista Un trequartista puro Dai piedi buoni Però può giocare anche sulla trequarti destra E con le doti fisiche che ha Potrebbe fare anche la punta Parliamoci chiaro Allora, in Napoli Diciamo che noi abbiamo vinto lo sciutetto l'anno scorso Quest'anno ci è andata male I parecchi giocatori Non stanno dimostrando di essere Quelli là che abbiamo vinto lo sciutetto Vabbè, ci sta Un anno salvatico 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 E praticamente nessun Napoli Voleva fare la rivoluzione Cioè, se questi trequartisti Ma poi Cafronvarran Papà Raspadoli Tutti questi grandi Gampioni Fa capire che stiamo rivoluzionando Raspadoli È giusto, secondo me è giusto Ed è giusto che sia così Anzi, il presidente ha detto che la rivoluzione Deveva partire già in estate E secondo me su questo ha ragione Come stavamo dicendo prima Caro chef Franco Questo ragazzo Ed Napoli Filmerà un contratto Se non sbaglio per 5 anni Quindi che lo regherà Fino al 2029 Però sto ragazzo Noi lo vedremo in Serie A Ma non con la maglia del Napoli Perché Andrà in prestito Al Frosinone Praticamente Al Frosinone Avrà a squadra di prestiti E se ne prestiti Che hai un prestito Con Napoli Capisce niente Allora, spero che il Frosinone Non ci salve uno Non solo questo ragazzo Secondo il mio punto di vista Da come ho potuto capire Andrà No, no, no Secondo il tuo punto di vista È così Andrà Zerbini andrà Al Frosinone Ma sempre in prestito Sempre in prestito E questo è un altro giocatore Nella rivoluzione del Napoli Che è molto giovane Perché noi lo vediamo ogni anno Di Maro Molto tra virgolette Vabbè, quanti anni c'è? Eh, ce ne ha 25 Zerbini c'ha 25 Eh, sì Vabbè, fino a 30 anni Pensi che può giocare Vabbè, comunque Ha già giocato Zerbini, tu 25 anni E quanti ci sceliamo? Zerbini Dite voi Ma chi è questo Mattia Non so se si pronuncia così Novo Vabbè, diciamo Popovic Chi è questo ragazzo? Classe 2006 Nato in Germania Ma di nazionalità serba Non ha debuttato ovviamente Nel calcio, come dire Degli adulti Perché questo ragazzo Ha giocato nel Partizan Ha fatto Partizan Under 16 Under 17 Under 18 E Under 19 In Napoli però Il cartellino di questo giocatore Non l'ha pagato Perché il Partizan L'ha svincolato L'ha svincolato, sì Quindi l'ha preso A parametro zero Pagandogli solo Il contratto Questo ragazzo Al Partizan Under 17 Si è affermato Come un grande bomber Ha fatto 20 gol Nella stagione 2022-2023 Ha fatto anche Gli europei Under 17 Facendo benissimo Un altro dato importante Prima di guardare Le giocate Di farci almeno un'idea Nell'ottobre 2023 È stato inserito Dal The Guardian Tra i 60 migliori talenti Nati nel 2006 Da tenere d'occhio Per il futuro Questa cosa Mi dà dei flashback Per quanto riguarda Ficcia Quaraskelia Quando abbiamo preso Quaraskelia Giocatore sconosciuto Lui è molto più piccolo Perché in classe 2006 Quaraskelia è a 2001 Però Mi dà questa impressione qui Detto questo Vogliamo vedere qualche giocata? Ci facciamo idea? Secondo me mi dà l'impressione Che questo Come ho visto prima Che stavo leggendo Questo come punto Sarà bravo Molto bravo Può fare anche la blattura 1,95 Che ben venga Dai Andiamo a vedere Le sue giocate Questo ragazzo Dai Eccolo qui Popoviccia Piede sinistro Qui già assist Però l'abbiamo visto Sulla fascia Nonostante Sia Un metro Ma qui è contro l'Italia Under 17 Dovrebbe essere contro l'Italia Nonostante sto ragazzo Sia altissimo Doppio passo Molto veloce Esatto E' molto abile Molto veloce Con l'altezza che c'ha Dovrebbe essere molto più Mamma mia quanto è alto questo Molto veloce 2006 Magari Tagami Si viene rin dall'acqua Tutto il serio Velocissimo Come Stazza fisica No Bravissimo Anche con i piedi A mettere assist Molto molto bravo Bel cross qui Ha fatto Molto bene Con la Serbia Under 17 Qui sempre Contro l'Italia Piede sinistro Secondo me La cosa bella Che c'ha questo ragazzo Punta i giocatori A far segnare Come stazza Non è egoista Vedi? No no Non è egoista L'abbiamo visto Molto Lo stiamo vedendo Sulla fascia Però non lo so Ragazzi A me dà anche L'impressione Che possa fare Benissimo il ruolo Da punta centrale Per il fisico Che gioco sulla fascia Tu come Come lo vedi Trequartista Sulla fascia Punta centrale Dove lo vedresti In un ipotetico Napoli del futuro Trequartista Trequartista Eh Sì Però Su Tu Sono giocatori Di fascia Traore Gong Ma ci siamo Apriati a Popovic Però Sto ragazzo Ci dà Ma politano Per le schede Che ci abbiamo Eh Vabbè Già ce li abbiamo Certamente Lillson Vabbè Ne vediamo Delle belle Quest'anno Di mare Ancora devo capire Quest'anno Di mare Ne vediamo Delle belle Come stazza Fisica Nazionalità Serba Chi ti ricorda Nazionalità Serba Eh Giovanella Juve Numero 9 Ah Plavic No Mi sbaglio Non lo so Mi da Il primo impatto Che ho avuto Su sto ragazzo Loro ce l'hanno Questo stile Di Di fare Questo gioco Questi Dibling Perché Pavlic È un Gambione Anche lui Fisicamente Molto molto bravo Ma è Bravissimo Con i piedi È un sinistro E' carissimo È molto bravo Non lo so Mi ha dato Quest'impressione Fateci sapere Nei commenti Però mi da Quel fatto Che Vede la visione Del gioco E' già È importante Guarda che stop Che ha fatto Come ho detto Prima Secondo me Ne vedremo Ne vedremo A dimara Secondo me Vediamo tanti giovani Quest'anno Ne vedremo delle belle Se scendiamo Sarà bello Speriamo bene ragazzi Incrociamo le dita Io spero che Comunque in questi sei mesi A Frosinone Possa dimostrare Il talento È giusto Darlo in prestito Comunque È giusto Darlo in prestito Non lo conosco Non lo conosco Campeonate molto Difficile Incrociamo le dita Speriamo bene Ho un motivo in più Per guardare le partite Del Frosinone Sia per Che dire Sia per Pogovic Con noi Amma di mare Facciamo i video Facciamo tutto Lo vediamo anche da vicino Pensiamo al futuro Pensiamo a questo talento Di Pogovic Anche Pensiamo alla finale Pensiamo alla finale Di lunedì contro l'Inter Che non sarà facile Perché Partiamo da sfavoriti Sembra Sembra Sfidicioso Sto figlio Vabbè Ma io guardo la realtà Dei fatti Ho visto la partita Ieri dell'Inter Anche se la Lazio Non ha fatto niente Però L'Inter ha giocato molto Basta Non parliamo dell'Inter Ci vediamo lunedì In finale Perché si ha Con me già partito Papà E' finita Ci vediamo lunedì Finale di Supercop In diretta La guardiamo Insieme Benvenuto Popovic Al Napoli Questo volevo sapere Fateci sapere Nei commenti Se a voi Mi piace questo gioco Scusa papà Se non ti ho fatto Non ti preoccupo Va bene Va bene Sei contento di questo acquisto Va bene Ma non mi sono contento Sei carico per lunedì Oggi Ci vediamo in un prossimo video Sempre e solo Forza Napoli Sim Di Mecchiofort Oppure Lundercima Sim Simba the best Esatto Simba the best Vi vediamo bene Ciao ragazzi